Musica Musica Allora, pazza Inoltre, andiamo a trovare quanto sta a resta Nei circa 500 metri Al domenico Sono i fiori nei piani Ma siamo una planta Sì, si è una planta Aggiungi Aggiungi Vai mi iaoooo Basta Canary Con un cenza al cuore con la polizia dell'arco Giorno Barsigliani ha formato con il governo del servizio dell'Arciso e anche con i partitori in questo punto c'è anche Lino Porto Velli Tresca che ha giusto sul colore della forza di montagna Questa è la prima cosa Vautorica 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 520 07 La proiezione da 4 e Sì, c'è nessuno che ti erano. Intanto stiamo a celebrare la campionessa provinciale di Salto in alto per Comodecco, Sant'Ela Parieve e Barda Canari con un vostro applauso. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!